Bentornati, allora ancora nel centenario di Puccini parliamo ancora una volta del divino Giacomo e come l'altra volta abbiamo visto il momento difficile della sua vita che è legato all'uscita della rondine oggi vediamo un momento difficile che attraversa quando scrive Madama Butterfly Allora, la prima difficoltà che trova Puccini è proprio trovare un libretto nel senso Puccini è sempre stato molto attento nella scelta della storia e una volta che ha individuato la storia vuole dai suoi librettisti, Illy che è già cosa in particolare che si adeguino alle sue richieste, alle sue necessità eccetera eccetera insomma infatti c'è un fitto scambio di lettere tra lui e i librettisti ma in questa fase storica Illy che è già cosa non hanno più voglia di litigare con Puccini e si limitano fondamentalmente a fare gli yes man e a scrivere il libretto senza mettere più bocca nella struttura drammaturgica dell'opera o senza dare alcun tipo di valutazione sul valore artistico dell'opera stessa quindi Puccini sta cercando una storia che abbia una protagonista femminile naturalmente che sia pervasa d'amore ma non da un amore ancillare e anche un po' frivolo come poteva essere quello di Manolo Esco o della Bohème ma neanche passionale e geloso come era in Tosca cerca sì un amore passionale ma che sia anche una storia di dedizione e la trova appunto in questa pièce teatrale che trova a Londra e di cui poi acquisirà i diritti per poterla musicare allora inquadriamo intanto il periodo storico Puccini scrive Butterfly dal 1901 al 1903 ha 43 anni circa ed è un compositore di grande successo tenete solo presente che ha inanellato tre successi mondiali come Manolo Esco, Tosca e la Bohème non in ordine cronologico ma non ha importanza quindi è un compositore ricco, appagato e con un ego adeguato alla sua situazione dal punto di vista personale è nota la sua passione per la caccia sia verso la selvaggina che verso esemplari femminili di Homo Sapiens vive la situazione moreuxorio con Elvira Botturi dalla quale ha avuto un figlio quindi non sposati con in più l'aggravante che non solo non sono sposati insomma che per i tempi la cosa era abbastanza scandalosa ma lei è ancora sposata con un altro uomo quindi immaginatevi lo scandalo che la cosa genera e Elvira e Puccini resteranno insieme praticamente tutta la vita cioè per tanti anni insomma quindi una situazione in cui probabilmente solo la fama e l'amore che la gente aveva per Puccini come di gli perdona questa cosa che oggi sarebbe probabilmente riferibile esclusivamente alla sfera personale privata di un personaggio pubblico ai tempi non era esattamente così Puccini come detto ha 43 anni è ancora giovane ovviamente ma la salute comincia a fargli degli scherzi in particolare ha spesso un fastidioso mal di gola che col senno del poi sappiamo che erano i prodromi della malattia che poi lo porterà alla morte un giorno torna a casa proprio da una visita alla gola è in auto perché lui ripeto oltre alle passioni di cui viene detto sopra era un grande appassionato di auto l'auto fa un incidente autista e Puccini più altri due passeggeri escono un incidente importante l'auto cade in una scarpata e fa un volo di 5 metri per capirci un palazzo di due piani quindi una botta che poteva ucciderli tutti invece due passeggeri escono in columi e sia Puccini che l'autista ne escono con una gamba rotta alla fin fine ci si poteva fare la firma perché ripeto era un incidente nel quale potevano serenamente lasciarci le penne passa però il tempo la gamba dell'autista guarisce e quella di Puccini no Puccini ovviamente non lesina cure fa addirittura vendere un luminare a domicilio a visitarlo e paga una parcella di mille lire che era una fortuna per capirci era più o meno lo stipendio annuo di un operaio per cui fate il raffronto con il mondo di oggi capite quanto è costato quella parcella Puccini è un signore paga senza battere i cigli e poi ovviamente appena il medico se ne va da buon toscano qual è? invoca l'altissimo in più durante questa malattia di questa gamba che non ne vuol sapere di guarire gli diagnostico anche una forma di diabete che è un'ulteriore complicanza sulla guarigione della sua gamba di diabete dovuto sicuramente a un regime alimentare abbastanza libero in particolare lui mangiava tonnellate di caramelle mangiava caramelle e fumava mangiava caramelle e fumava morale alla favola lui è bloccato in casa per 5 mesi durante il quale ha dei dolori atroci durante i quali non può dedicarsi ai suoi sport preferiti cioè la caccia alla selvaggina e l'altro tipo di caccia e quindi insomma è il momento in cui il vira finalmente ce l'ha anche come dire sotto controllo si muove in carrozzella e in questo senso c'è una famosa foto che ancorché un po' sgranata insomma possiamo vedere ovviamente il valore storico di questa foto è decisamente superiore a quello tecnico non riesce ovviamente a lavorare sia per i dolori lancinanti che lo affliggono giorno e notte sia per una ragione proprio pratica allora lui normalmente era abituato a lavorare su un pianoforte verticale il classico pianoforte che ha un compositore in casa sua uno strumento di lavoro ecco magari non particolarmente di pregio come d'altronde ci sono pochi verticali di pregio uno strumento di lavoro quotidiano ovviamente stante la gamba così così tesa gli è impossibile lavorare al pianoforte per cui dopo tre mesi di sofferenze dopo tre mesi che non lavora specifico che l'incidente accade quando lui ha già terminato il primo atto dopodiché sta tre mesi senza comporre a causa dei dolori lancinanti e a causa della gamba che gli infedisce proprio di stare vicino al pianoforte si fa portare un pianoforte a coda e in questa maniera riesce a mettere la gamba un pochettino sul pianoforte e riprende bene o male a lavorare e a concludere l'opera l'opera rimiscala a febbraio del 1903 ed è un fiasco clamoroso una vera debacle vediamo di capirne i motivi allora qualcuno dice che l'editore Sonzogno che era il rivale di ricordi cioè l'editore di Puccini avesse organizzato una clac appositamente per fischiare l'opera e per farne fondamentalmente un fiasco annunciato ora questo non dice Rie non abbiamo conforti storici a questa cosa ma che sia vera o che non sia vera è abbastanza irrilevanti perché comunque la prima versione di Madame Butterfly ha dei limiti oggettivi e chi l'ha vista mi viene in mente a questo proposito la produzione scaligera del 2016 diretta da Chai sa di cosa stiamo parlando personalmente individuo in quella prima stesura tre limiti fondamentali il primo è la divisione in due atti invece che in tre visione moderna della cosa perché insomma si andava sempre più affermando la divisione bipartita invece che quella che quella tripartita però questa divisione in due atti fa in modo che due atti siano veramente lunghi e in certi punti anche un po' stucchevoli quindi questa è la prima è la prima ragione dell'insuccesso la seconda ragione dell'insuccesso è che manca completamente in questa prima versione una figura maschile importante cioè la figura di Pinkerton nella prima stesura è veramente una figura impalpabile che praticamente dopo dopo il primo atto scompare e non si vede più insomma ecco dopodiché detto tra noi anche con l'ultima versione che è quella che riusciamo oggi la figura di Pinkerton non è particolarmente ben delineata ed è ancora un po' inconsistente con tutto che gli ha aggiunto l'aria con tutto che gli ha aggiunto dei concertati ma insomma non è certamente un protagonista maschile di peso in più consideriamo che c'è la particolarità del fatto che è praticamente l'unico caso di protagonista tenore che sia una figura negativa perché normalmente il protagonista tenore è sempre una figura positiva nella storia poi mediamente muore ma non ha importanza è sempre una figura positiva un eroe positivo in questa versione invece decisamente non è non è come dire un personaggio a cui il pubblico si affezioni la terza ragione a cui Puccini deve l'insuccesso di Madonna Butterfly è il fatto che probabilmente sottovaluta il pubblico della scala lui è convinto fondamentalmente che dopo i tre grandi successi che vi ho detto prima il pubblico sia lì per ratificare la sua incoronazione al re dell'opera e tralascia il fatto che invece il pubblico della scala si aspettava qualcosa di nuovo una innovazione o una qualche novità musicale tenete presente che nel 1902 l'anno prima è uscita Pelleasse e Melisande cioè un'opera che veramente ha riscritto determinate regole ed è stata come dire cruciale nella storia del teatro musicale Madonna Butterfly invece è un'ottima opera di altissimo valore ma non aggiunge nulla dal punto di vista musicale a quello che ha detto Puccini fino a quel momento sì c'è tutto il lavorare su temi su temi giapponesi che lui si fa avere dall'ambasciatore del Giappone insomma da altri amici giapponesi o che erano stati in Giappone insomma oggi c'è la novità di questo materiale ma per il resto non c'è non ci sono particolari innovazioni in quest'opera in più è un aggravante che in questa prima stesura di Madame Butterfly ci sono chiari riferimenti a Bohème proprio un utilizzo tematico del materiale che è stato utilizzato in Bohème e il pubblico capite che è lì sperando o aspettandosi un qualcosa di nuovo sente un'opera che non dice di nuovo nulla dal punto di vista musicale in più si sente il materiale di Bohème il pubblico si sente anche un po' raggirato si sente preso in giro è un come dire ma hai finito la vena allora non hai niente di interessarci di nuovo da dirci per cui al netto dell'episodio di sonzogno vero o non vero che sia ci sono delle ragioni importanti dietro questo flop e alla fine a ben vedere quello che è mancato forse anche a causa dei tre mesi che Puccini passa convalescente per la frattura quello che è mancato è il tempo di una sana revisione di quello che era stato scritto perché praticamente viene completata l'opera e viene data ai cantanti per lo studio e alla scala perché la mette in scena non c'è un tempo come dovrebbe esserci sempre alla fine di un lavoro di decantazione in cui si può guardare a mente fredda l'opera e vedere se funziona o se non funziona in più chi erano le persone che in genere pungolavano Puccini a questo punto di vista Giulio Ricordi il suo editore storico che però è molto avanti negli anni forse non ha più in energia di un tempo forse non ha neanche voglia sicuramente abbiamo detto prima voglia non hanno i suoi due più stretti collaboratori il lì che è Giacosa che alla fine ripeto si limitano a scrivere il libretto un buon libretto ma insomma ma non pongono a Puccini alcun dubbio sulla struttura dell'opera né tantomeno sul suo valore estetico o musicale tant'è vero che basta alla fin fine una rivisitazione che accorcia determinate parti decisamente molto lunghe rimpolpa un po' la figura di Pinkerton toglie tutto il materiale preso da Bohème e alla fin fine con un rimaneggiamento ma non una rivoluzione dell'opera solo tre mesi dopo andrà in scena a Brescia e diverrà il grande successo mondiale che tutti conoscono e che ancora oggi è rappresentato nei teatri di tutto il mondo bene spero che il video vi sia interessato se è così lasciate un like iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto ma soprattutto come sempre la cosa che più mi interessa è che scriviate nei commenti cosa ne pensate se avete qualche dettaglio riferito a questa fase della vita di Puccini scrivetelo nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo video non mancate ciao